Prosegue l'iniziativa del Comune di Ferrara con le frazioni, dedicata agli incontri con gli abitanti delle piccole località del territorio. Il vice-sindaco Nicola Lodi si è recato a San Bartolomeo in Bosco per raccogliere le segnalazioni dei residenti che hanno spaziato su più fronti. La motivazione è sempre la stessa. Io a una certa età ho desiderato da sempre una ciclabile per fare qualche giretto in bicicletta, ma purtroppo ancora non do colpa a nessuno perché abbiamo i palloni messi a marciapiedi e quindi bisognerebbe inventare il modo per poterla costruire o meno qualche chilometretto per andare anche indietro. Chi ha la carossina? Dì la tua perché c'è messa per la carossina. Concorde con Orriele? Esatto. Non abbiamo marciapiedi, non c'è una ciclabile, quindi è quasi impossibile circolare senza difficoltà perché abbiamo una strada intrafficata da mesi pesanti visto i magazzini di lavorazione della frutta e quindi siamo obbligati a girare in strada con carrozzine per i bambini che per i disabili e anche i marciapiedi. Quindi noi speriamo tanto in questi lavori a breve termine. La mia è una richiesta di più cose insieme in realtà è ricordare al comune l'impegno già sottoscritto per il finanziamento e la realizzazione del marciapiedi in via Masi. È già bilancio quindi per fortuna questa cosa la voglio solo ricordare. Alla ministra Chiedone chiedo fra le varie opzioni che hanno scritto sul volantino sicurezza, più sicurezza perché in via Sgarbata dove io abito, a Borgo Colombara le case sono molto vicino alla strada, almeno quelle lungo la strada poi dopo nell'interno ce ne sono delle altre ma il limite di velocità non è assolutamente osservato. Presente a San Bartolomeo in Bosco anche l'assessore al commercio Matteo Fornasini che sta incontrando le attività del territorio per venire incontro alle loro esigenze. Da questa attività di ascolto, di confronto è emersa questa esigenza, questa necessità di aiutare di sostenere anche le piccole imprese, le attività commerciali i negozi di vicinato delle nostre frazioni che sono un patrimonio fondamentale perché se in una frazione chiude un forno chiude un bar, chiude un circolo diventa un problema e quindi siamo qua proprio per illustrare questa iniziativa abbiamo messo a disposizione 250 mila euro di contributi comunali per sostenere tutte queste attività queste piccole attività. Dopo essersi confrontato con diversi cittadini il vice sindaco Nicola Lodi ha aperto l'urna dove gli abitanti avevano posto le varie segnalazioni traendo un primo bilancio. Le domande principali e le richieste sono svariate parliamo di viabilità, parliamo di sicurezza parliamo di piste ciclabili, di marciapiedi e parliamo anche di richieste riguardo ad altri enti così come il canale di via Cervella e altre richieste sono veramente tante.